Cari amici di Fata Zucchida, la prova che vorrei proporvi oggi è di far sorgere il sole due volte. Se andiamo in Romagna, ci riusciamo, anzi, ci riuscirà lui, Tiberio, direttamente da Cesena. Le pesche e le nettarine sono state le amiche di infanzia di Tiberio. Oggi le coltiva dopo suo padre e suo nonno, con lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa educazione al sacrificio che condivide con sua moglie Sabina, quando le guarda spuntare dagli alberi. Per lui è come se sorgesse il sole, quello forte di Romagna. Sono il frutto della sua famiglia, anche se, per reggere il mercato, la sua azienda ha dovuto diversificare la produzione, ma per lui restano sempre le migliori. Forse perché, dentro ad ogni frutto, c'è un po' del suo cuore. Torneremo a viaggiare insieme, in giro per l'Italia, perché nella vita chi cerca, prova.